Coach Cagnardi, grazie mille di essere venuto qui nella sede di Verde Vip a Ponteranica. Grazie a voi per l'invito. Una grande soddisfazione giunta dalla partita contro la Juve, una grande vittoria contro la prima in classifica. Diciamo che è una bella settimana perché dopo una vittoria si è sempre molto più sereni. È chiaro che vincere in questo modo contro la prima della classe dà molta fiducia e soprattutto è un po' un attestato anche sul lavoro che viene fatto durante la settimana e che è stato fatto durante l'anno. Era una partita molto difficile perché arrivava una squadra preparata, però noi siamo a nostra volta una squadra che riesce a performare nel momento tale che è molto concentrata. Abbiamo approcciato bene, avevamo la testa a posto, abbiamo provato a dare tutto, siamo usciti a rimanere in partita e a portare a casa questa vittoria importante. Il trend della squadra è molto positivo nelle ultime giornate. Forse si è un po' ritrovato quell'animo perso a metà stagione. In verità è un animo che non si era mai perso. La realtà è che questa è una squadra che ha determinate caratteristiche in quella che è la sua costruzione estiva. C'è una squadra molto giovane che ha tantissimi giovani all'interno del proprio roster, però mi piace anche ricordare che sono giovani senza esperienza. Nel nostro campionato per regolamento bisogna avere sempre almeno tre under all'interno del roster, che sono under che possono essere dell'anno 2000 o dell'anno 2001. Noi abbiamo ragazzi che sono nati nel 2004, nel 2005, quindi ragazzi che vanno a scuola, che fanno un'attività professionistica con dei professionisti senza ancora avere una struttura intorno tale che gli permette di essere continui. Questa cosa chiaramente durante l'anno l'abbiamo un pochettino pagata, però devo dire che con l'apporto dei senior siamo sempre riusciti a rimanere in linea di galleggiamento e questo ci ha poi permesso a livello di risultati di rimettere un attimino la testa fuori dopo un momento dove effettivamente i risultati non erano quelli auspicati, ma per una serie di ragioni eravamo pronti a questo. Prima di arrivare ai giovani le faccio una domanda sulla carriera. Lei recentemente ha lavorato ad Agrigento, poi è passato a Treviglio e poi si è avvicinato a Bergamo. Com'è la differenza di ambienti anche tra sud e nord, ma soprattutto la differenza che ha percepito tra la serie A2 e la serie B? Perché di fatto sembrano due mondi completamente diversi, ma forse per qualità tecniche si assumono. Sì, allora la mia storia d'allenatore nasce a Reggio Emilia, in una società di A1, all'interno del quale ho fatto tutta la trafila del mini basket fino a diventare capo allenatore in A1. Ho fatto 12 anni a quel livello, già il passaggio tra A1 e A2 è stato un passaggio abbastanza forte per quelli che sono i valori tecnici, soprattutto diffusi all'interno di una squadra. Mi spiego meglio. In squadre di A2 ci sono giocatori molto validi, però numericamente magari sono un paio di giocatori che possono valere la categoria superiore. Devo dire invece che il passaggio dalla A2 alla B è un pochettino più dolce. I migliori giocatori di B potrebbero benissimo essere performanti anche nella categoria superiore. È chiaro che la differenza la fa tutta una serie di cose, tra cui un'organizzazione che chiaramente va a supporto poi di quello che è il livello della squadra in campo. Passando invece ai giovani, che consiglio darebbe ai giovani che vogliono non vivere di basket, ma che vogliono vivere sia di basket, ma cercare con la passione di portare avanti questa disciplina? Io credo che la parola chiave sia proprio la passione. Oggigiorno i giovani non vengono aiutati, nel senso che c'è molta dispersione di energie, sia mentali che a livello di tempistiche. Chiediamo ai nostri ragazzi più giovani, che sono poi il nostro futuro, non solo nello sport ma anche altrove, di avere tantissimi impegni, di essere super organizzati. Questo chiaramente è una difficoltà molto grande per loro. Credo che la passione, cioè essere comunque spinti da questa cosa, da questo fuoco, che ti porta a voler fare sempre meglio all'interno di un impegno così importante come quello sportivo, sia la base. E il suggerimento che posso dare, a parte le banalità che poi banalità non sono, cioè lavorare tanto, cioè il cercare sempre di reagire alle difficoltà, penso che il suggerimento, diciamo così, più importante sia quello di non guardare troppo avanti, cioè non fermarsi su quello che può essere un risultato finale, ma concentrarsi molto di più sul percorso. Ogni giorno bisogna guadagnarsi qualcosa. Questo nelle nuove generazioni, il livello di atleti si è un po' perso. Tutti i giovani atleti che hanno questa caratteristica, io vedo che riescono comunque ad arrivare dove vogliono. Lei poco fa parlava di organizzazione e percorso. Mancano due partite alla fine della regular season, poi inizierà il vostro percorso e play-off, perché con la vittoria contro Crema di fatto avete chiuso la corsa alla conquista dei play-off. Quale sarà la vostra organizzazione e il vostro percorso dall'inizio dei play-off in poi? Allora, innanzitutto c'è da dire che matematicamente i play-off non sono ancora stati raggiunti e quindi un po' per scaramanzia, un po' perché è giusto dirlo, bisogna aspettare che la matematica chiaramente ci dica che questi play-off sono stati presi. Per non entrare nelle 8 ci vorrebbe una serie di risultati obiettivamente che difficilmente riusciranno poi a palesarsi sul campo, però di segreti non ce n'è. Nel senso che noi dal primo giorno abbiamo deciso di guardare partita dopo partita. Abbiamo una squadra molto particolare per i motivi che ho detto prima e anche per altri motivi. Quindi il nostro obiettivo non è mai stato a lungo termine, non poteva nemmeno essere a medio termine. Abbiamo sempre cercato ogni settimana di provare a dare qualcosa ai nostri giocatori individualmente e di provare ad arrivare il più pronti possibili alla partita successiva e sicuramente faremo altrettanto anche nella post-season. Ho un'ultima domanda. Ho letto un po' le sue dichiarazioni sul pubblico di Bergamo e anche quella del presidente faceva menzione alla partecipazione sempre maggiore del pubblico che latita da alcuni punti di vista. Le regaliamo un minuto per un appello al pubblico di Bergamo che sappiamo molto bene che in realtà nel cuore ha questa passione per il basket storicamente comprovata e che ci piacerebbe vedere come l'ultimo Bergamo-Mantova di ottavi di finale play-off di qualche anno fa. Quella è una speranza, un auspicio. Io chiaramente quando ho parlato prima della partita di Cremona in sala stampa sono stato anche abbastanza critico. Chiaramente la mia critica non era nei confronti di chi viene, tanti o pochi che siano e che sono persone che ringrazio e che hanno dimostrato in tempi non sospetti se non di credere in questo progetto, in questa squadra quantomeno di avere a cuore la pallacanestro e quindi abitando a Bergamo di avere comunque una partita settimanale per il piacere di vedere pallacanestro. Questa è una cosa importante. Credo anche però che sicuramente ci sia una passione un po' sopita. Chiaramente le ultime due stagioni purtroppo fanno parte dello sport ma non hanno aiutato perché sono state stagioni dove ci sono state tante sconfitte ed è, ripeto, una cosa che può accadere a tutte le società però penso anche che la passione debba un pochettino prescindere da quello che è il risultato. Mi piacerebbe avere una risposta da parte della città sicuramente sfruttando il fatto che è stata una buona stagione e che è stato, diciamo così, agganciato il treno playoff però vorrei anche che la gente di Bergamo che è legata alla pallacanestro ritrovi il piacere di vedere una partita di pallacanestro venendo al palazzetto e stando vicino a questi ragazzi che non meritano. Coach, grazie mille per essere stato con noi in bocca al lupo nelle prossime partite e ci vediamo al palazzetto. Grazie a voi dell'invito, a presto. Grazie a voi.